Vediamo immediatamente, cerchiamo di incogliere dal mio punto di vista, ovviamente sarà una lettura parzialissima, se volete anche selettiva, come ciascuno di noi può fare. Ho suddiviso un po' dal punto di vista schematico il mio intervento in tre parti, una parte dove evidenzio il problema, la questione problematica, una seconda dove cerco di guardare al testo della laudato sì come tentativo di risposta al problema ed una terza parte invece più provocatoria che incrocia più i miei interessi di ordine economico e politologico. Vediamo immediatamente il problema, il problema che noi affrontiamo è quello tra uomo, ambiente e lavoro, questo è probabilmente il trittico intorno al quale Papa Francesco ci vuole far riflettere, ma è un trittico intorno al quale a ben vedere la dottrina sociale della Chiesa è ben consolidata nella riflessione, non è il caso di ricordare adesso tutti i documenti, ma la questione ambientale, ovvero la vera questione ambientale dal punto di vista dottrina sociale della Chiesa, ossia l'ecologia umana, è parte integrante del Magistero, dall'Evangelio Vitae fino alla Centesimus Annus, fino appunto poi ai discorsi di Benedetto XVI, c'è quel bellissimo discorso di Benedetto XVI al Bundestag, lì dove affronta la questione ambientale, sembrava un'anomalia che un Papa andasse in un Senato, in una Camera elettiva a parlare di cosa? A parlare di ambiente dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa. Quindi possiamo dire che questo trittico ambiente-economia-lavoro-ambiente-uomo-lavoro-economia appunto ci mostra quanto sia importante per la dottrina sociale della Chiesa una simile riflessione che invita da un lato un chiarimento, perché su questi temi è legittimo avere idee estremamente diverse gli uni dagli altri. Quindi da un punto di vista dottrina sociale della Chiesa ci invita ad un chiarimento, ma anche ad una presa di responsabilità, cioè ad un'assunzione di responsabilità. Una volta chiarito il tema, la questione problematica è anche necessario appunto poi assumersi la responsabilità. Ora ridotta però nei suoi termini più essenziali possiamo dire che questo trittico cosa ci evidenzia da un punto di vista problematica? L'alterazione ad opera degli uomini di quegli equilibri che garantiscono la sopravvivenza della biosfera e dunque la permanenza e la possibilità di continuare a utilizzare generazioni dopo generazioni le risorse indispensabili alla vita umana. Questo proprio detta in termini minimi, ma proprio perché la dottrina sociale della Chiesa non si occupa di questioni meramente tecniche, potremmo dire anche tangibili, materiali, ma cerca di esprimere una visione che vada oltre la dimensione fisica e materiale. Non possiamo accontentarci di questo. La prospettiva della Laudato Sima, di tutto il Magistero della Chiesa, in ambito ambientale, ci invita a guardare oltre, ad andare oltre questo dato minimo, essenziale, necessario, ma non ancora sufficiente. E qui potremmo attingere appunto a tutti quei documenti, compreso la Caritas Inveritate di Benedetto XVI, la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II. È una questione dunque che nella prospettiva nella quale appunto affondano questi documenti ha a che fare con i significati più immateriali, piuttosto che tangibili e materiali, che sono connessi ed implicano appunto, sono connessi con ciò che maggiormente implica la vita dell'uomo. In un tempo infatti in cui si è abituati a vedere nella realtà delle cose soltanto l'aspetto materiale, lo so che è retorica, ma stiamo nella retorica, questo è normalmente quello che ci sentiamo dire, che probabilmente è anche vero, no? Siamo tentati e portati ad essere più attratti dagli aspetti che ci toccano direttamente la vita, piuttosto che quelli che ci invitano ad una contemplazione, quindi è un momento di riflessione ulteriore. Ecco, potremmo dire che in un momento di questo tipo forse tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto soprannaturale, potremmo dire con l'eterno, ci sfugge, ci sfugge anche dalla riflessione. E allora la laudatosi e i documenti di cui sopra in qualche modo ci invitano a riporre al centro la dimensione della ecologia umana, cioè a tutti quegli aspetti immateriali, piuttosto che solo quelli immateriali che hanno a che fare con l'equilibrio della vita dell'uomo nel pianeta. Ora, per dire come in realtà quale sia la prospettiva più autentica di questa ecologia umana, io vi vorrei suggerire di venire con me nella riflessione intorno a quel fantastico discorso che Gesù fece sulla montagna, appunto, il discorso della montagna, perché io credo che lì ci sia una chiave di lettura per leggere in modo, se volete, selettivo, parziale, quello che volete voi, questa enciclica. Ma è questo il mio modo di leggere l'enciclica, a partire da Matteo 7, 19-34, cioè un passo del Vangelo, dove noi credo possiamo individuare la cifra per poter poi leggere l'enciclica e interpretarla alla luce del Magistero della Chiesa. Lì, in questi, possiamo dire che proprio nel discorso della montagna, lì dove Gesù ci propone, propone all'attenzione dei discepoli, il modello di vita offerto dagli uccelli del cielo e dai gigli dei campi, nulla di più distante allora da tutto ciò che ha a che fare con la tecnica, con la produzione, tutto ciò che è necessario oggi per vivere. Allora, non vi sto portando troppo lontano, in realtà è una riflessione che ha a che fare con qualcosa di molto vicino. Perché? Perché che cosa ci dice in nucia poi questo discorso, in ultima istanza? Ci dice che la cura per la vita, cioè ciò che conta realmente nella vita, ciascuno di noi lo sa se ci riflette, non può essere scambiata con la semplice cura per il cibo, eppure il cibo serve per vivere. Però la cura per la vita va oltre la cura per il cibo, così come la cura per il corpo non può essere ridotta alla cura per il vestito, benché sappiamo tutti quanto sia essenziale. Dunque la vita vale più del cibo e il corpo vale più del vestito. Questo è il tema che sta al centro, credo, del Magistero Sociale della Chiesa in ordine al tema dell'ecologia umana. Perché il Magistero si occupa dell'ecologia, credo che sia la risposta, la si possa trovare esattamente in questo dato, se volete banale, ma comunque importante, fondamentale per noi cristiani. La semplice soddisfazione del Beisea, ogni dunque non basta a realizzare la vita dell'uomo, di pane soltanto appunto l'uomo non vive. Il più della vita rispetto al cibo, ciò che eccede, l'eccedenza dunque della nostra esistenza, ha nel testo del discorso della montagna un'altra designazione, un'altra destinazione, lì dove Gesù ci invita a ricercare il regno e la sua giustizia. Dunque non è tutto risolto nel nostro corpo e nel nostro desiderio di vivere in modo decente, ma vi è qualcosa che va oltre tutto ciò. Ciò è necessario, diciamo che ciò non vale, ciò è necessario ma non è ancora sufficiente. È la ricerca del regno e della giustizia. Detto altrimenti, colui che cerca il regno di Dio e la sua giustizia troverà insieme, potremmo dire, l'autorizzazione a curarsi delle realtà materiali. È proprio questo il tema dell'amministrazione di qualcosa che non ci appartiene, ma che ci è assegnato, consegnato, proprio perché regni la giustizia e regni il bello. Dunque i beni cosiddetti materiali hanno bisogno di essere non tanto intrecciati o complementati, ma proprio interpretati, letti dai bisogni immateriali. Per questo mi veniva voglia di reagire immediatamente a Marcus, io non rinuncio a nulla, non devo decrescere. Io metto al primo posto qualcos'altro, se questo qualcos'altro mi consente di crescere, che ben venga la crescita, ma se questo qualcos'altro non mi fa crescere, io sono contento comunque i termini puramente di PIL, prodotto interno lordo, sia chiaro? Perché ciò che mi interessa è altro. Se io metto al primo posto la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, tutto il resto è funzionale a mia moglie e mia figlia e non mi interessa crescere o non crescere. Se poi cresco, è una cosa che viene alla famiglia, ma metto al primo posto la famiglia, cresco in un'altra dimensione, non necessariamente, non esiste l'uomo ad una dimensione. Questa, possiamo dire, questa dimensione umana è più complessa dell'unica dimensione che è appunto quella economica. Allora quali sono però questi beni, questi beni immateriali, che non negano la dimensione materiale, anzi la esaltano, quali sono? Ma io metterei in primo luogo proprio la vita umana, l'esistenza, cioè l'esistenza umana in quanto primo bene verso cui tendere. Dunque l'attività dell'uomo è il dramma nel quale oggi si gioca e si decide l'umana libertà. Il dramma in tutti i sensi, la scelta continua, viviamo scegliendo, no? Il sinonimo di vita è anche scelta e ogni scelta è una rinuncia a qualcosa. Quindi per questo io non è che rinuncio a crescere, io non rinuncio a crescere in un determinato modo per crescerne eventualmente in un altro. Tutto ciò avviene sul palco, come dicevo, appunto, come leggiamo anche in Genesi, possiamo dire sul palco scenico del mondo, no? Tutto questo avviene nel mondo, nella drammaticità del mondo. L'azione dell'uomo nel mondo dunque non può essere che il rispetto e incremento di tutto ciò che è bello, di tutto ciò che è giustizia. Non tutto della natura è bello, non dobbiamo anche qui fare la retorica della natura bella, no? La natura è cattiva, è impietosa, non si cura di noi, siamo noi che ci dobbiamo prendere cura della natura, infatti, e questo è il mandato. Il nostro Signore non ha dato alla montagna il compito di prendersi cura degli uomini, bensì il contrario. E quindi per questo ci dobbiamo prendere cura del bello e renderlo ancora più bello e renderlo appunto buono nel rispetto e nella conservazione, nel rispetto alla natura, nella sua conservazione ed è questo il modo perché possa dare il meglio. Sarebbe forse dunque eccessivo poter parlare di interesse esplicito, interesse ecologico esplicito nella Bibbia, perché questo manca, ma se interpretato in questi termini possiamo dire che troviamo anche nella riflessione biblica, nella riflessione del Vangelo poi, una interessante chiave di lettura per cogliere poi i problemi di oggi e di quel trittico dal quale eravamo partiti, uomo, ambiente, economia, ovvero lavoro. In tal modo il mondo può assumere quel dinamismo, ed è questo l'invito con il quale io ho tentato di leggere l'enciclica, piuttosto che la visione restrittiva e negativa, non è un rendere meno dinamico il mondo, ma come lo rendo ancora più dinamico alla luce e alla luce, scusate, nella prospettiva del dinamismo cristiano, evidentemente, è un dinamismo verso il meglio, verso il bello, verso il buono, verso le giustizie. In che modo il mondo dunque può assumere quel dinamismo che ne costituisce proprio il suo significato, ma anche il suo destino? Se è questo. La creazione, per usare uno slogan, ma che comunque è teologicamente fondato, non è solo ex dilo, non è appunto soltanto dal nulla, ma è anche contro nilum, è anche contro il nulla, si oppone all'inconsistenza delle cose. E che cos'è il nulla nei nostri rapporti? È il peccato, il peccato sociale, il peccato personale che poi diventa, strutturandosi, il peccato sociale, è in fondo un modo per esprimere la negatività della storia, cioè ciò che si frappone tra l'azione della persona e la creazione di Dio. La creazione di Dio è, possiamo dire, non è mai, non è un perfectum presence, quindi non è un dato per sempre, ma non è nemmeno una creazione continua, cioè ha bisogno dell'intervento dell'uomo attraverso la sua azione. Ecco, la sua azione non è dunque, perché sia conforme alla creazione, deve essere necessariamente anche contro nilum, cioè contro l'annientamento della creazione e ogni peccato sociale rischia di essere un atto di vanità, cioè che vanifica la creazione. Io, riflettendo come ciascuno di voi, di fronte al dramma del terrorismo degli ultimi settimane, pensavo veramente come l'uccisione di una persona, ma non dobbiamo arrivare all'uccisione, l'offesa ad una persona e quindi anche alla natura, sia un tentativo di vanificare un atto creativo di Dio. L'atto creativo di Dio, ciascuno di noi è creato smaggia e somiglianza di Dio, far venire meno una vita è vanificare quell'atto creativo, è veramente qualcosa di aberrante, ma questo non riguarda soltanto la persona, riguarda la persona nel suo massimo grado, ma ogni peccato si risolve in un atto di negazione della creazione di Dio, cioè è un tentativo di vanificare, di vanificare l'opera di Dio. Dunque anche la creazione partecipa direttamente alle decisioni esistenziali dell'uomo, la sua azione per promuovere tutto ciò che è positivo e per contrastare ogni forza distruttiva. E questo credo l'invito più forte che ci faccia Papa Francesco, cioè contrastare la forza distruttiva. La dottrina sociale della Chiesa, dai documenti primi, dai primissimi documenti fino alla laudotosi, ha il compito dunque di mostrare le implicazioni a livello non solo antropologico, come in effetti nell'ultima, possiamo dire, nell'ultima espressione del Magistero Sociale della Chiesa, ma anche a livello di istituzioni, a livello di strutture sociali, ecco come appunto mostrare come il mistero della vita poi si incarni e diventi istituzioni, diventi forza che cambia il mondo. Da ciò si evince che gli uomini hanno degli bisogni concreti nei confronti della sfera ecologica. E la crisi economica degli ultimi dieci anni, ormai quasi dieci anni, evidenzia ulteriormente come i cristiani siano chiamati, mediante una riflessione costante, ad interrogarsi sul modo per migliorare le istituzioni mondiali. Ora, ponendosi da questo punto di vista, e ho insaurito la prima parte, credo che ho insaurito anche tutto il mio tempo, no? Ancora quanto tempo? Dieci minuti ancora, ok. Quindi se questa è la situazione problematica di fronte alla quale siamo posti, bene Papa Francesco con la laudato si, si inserisce esattamente in questo percorso. Io sono da questo punto di vista puramente continuista. Ecco, esistono delle svolte all'interno del discorso di Papa Francesco, sia chiaro, eh? Questo non significa che ripete, ma ripete in modo, ripete, cioè rielabora in modo creativo quanto il magistero fin qui aveva espresso, che è quello che ho detto. Quello che ho detto è Centesimus Annus, Evangelium Vitae, insomma, è il magistero della Chiesa fino ad oggi. Ora, a questa questione aveva già esposto, appunto, risposto Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, ma appunto Paolo, ma anche Paolo VI. Oggi la situazione si è fatta, possiamo dire, ancora più complessa, più complicata, da non pensare di poter risolvere la conversione, risolvere i problemi di natura strutturale, di natura economica, politica, soltanto con la conversione individuale. E su questo punto Marcus ha detto delle cose importanti, cioè la conversione individuale, per quanto fondamentale e necessaria, anche qui non è ancora sufficiente, c'è bisogno di ripensare anche dei nuovi paradigmi, ed è un po' il modello, è un pochino la sfida verso la quale ci spinge Papa Francesco. Vi è un riferimento importante, l'enciclica è molto ampia, quindi ho dovuto affrontare un tema, non di più, avrei potuto affrontarne un altro, ho scelto questo, citato anche da Marcus, il paradigma tecnocratico, perché su questo tema in effetti ci sarebbe tanto da dire e anche difficile da comprendere, può significare tante cose. Il paradigma tecnocratico qualcuno l'ha anche tradotto come il paradigma tecnologico e quindi pensando che il Papa attraverso questa espressione avesse voluto opporsi alla tecnologia. In realtà no, il paradigma tecnocratico, dal mio modestissimo punto di vista, significa invece qualcos'altro. Come si può ben vedere dalla sua realtà originaria, questo potere, questo potere che Dio dà all'uomo da Genesi per intenderci, potere dell'uomo sulle cose, non ha nulla però di prometeico, è piuttosto il suo segno di distinzione e di primazia nel servizio al progetto della creazione. L'ha ripetuto Papa Francesco anche in altri momenti, penso alla metafora della piramide rovesciata di qualche settimana fa, ovvero all'omelia inaugurale del suo pontificato, quando definendo il potere l'ha definito un servizio il quale ha come apice la luce della croce, al suo apice, al suo vertice, la luce della croce. Quindi l'idea di potere in realtà è veramente rovesciata, è legata, diciamoci la verità, alle competenze, è legata alle conoscenze e le conoscenze e le competenze sono pluripe, dunque il potere non può essere concentrato e tutto l'assolutismo viene mandato via con un colpo solo, secondo me, con questa affermazione di Papa Francesco in occasione del suo discorso, della sua omelia inaugurale. Quindi diceva appunto al servizio della creazione che non è ancora concluso, questo servizio, finché esisterà un uomo il servizio è sempre attivo, nella misura in cui chiede la nostra collaborazione per annunciare la bontà intrinseca fino agli estremi conferi della terra. Questa è la scommessa e il mandato di Papa Francesco. Del resto, qui cita Guardini, cita Romano Guardini, lì dove appunto dice il potere del cristiano gli deriva soltanto dalla sua adessione a Cristo, altrimenti non ha alcun titolo. Ora il senso della grande trasformazione seguita all'industrializzazione di larghe zone del pianeta e la conquista progressiva di una piena disponibilità sulla materia da parte dell'uomo e dei suoi strumenti. Questo è il punto di partenza per cogliere il senso del paradigma tecnocratico. In realtà la tecnologia è sempre esistita, la ruota che cos'era? Voglio dire, ogni strumento è tecnologia, tuttavia negli ultimi secoli, negli ultimi secoli e mezzo, due secoli con la rivoluzione industriale, da rivoluzione industriale poi, ma ben prima se prendiamo già le innovazioni nell'epoca medievale, ma con la prima rivoluzione industriale irrompe la tecnologia in modo intensivo, cioè l'economia ha un sviluppo diverso proprio perché interviene la tecnologia in maniera intensiva. Tuttavia bisogna fare attenzione, quando allora Papa Francesco critica il paradigma tecnocratico, ce l'ha forse con questo? Ecco, io non credo che, credo che si debba anche qui legare alla tradizione, alla tradizione del Magistero Sociale della Chiesa, dove invece la tecnologia è vista veramente come lo strumento attraverso il quale si vince la resistenza della materia. La resistenza della materia è proprio il senso più genuino del lavoro, la Borem Exergence ci definisce il lavoro come il tentativo di resistere appunto alla resistenza della materia e si pensi alla bellissimo poema di Papa, era all'epoca, non era Papa, di Giovanni Paolo II quando lavorava in una cava di pietre, in una miniera, no? Scrisse quel bellissimo poema la cava appunto di pietra. Altro però, e qui veniamo appunto a Papa Francesco, è abusare di questo potere ordinatore. Il lavoro è in sé resistenza alla materia ed è un potere ordinatore della natura, però altro, dice Papa Francesco, è abusare, non tenendo conto di alcuni limiti al dominio assoluto. E qui si collega tutta quella prospettiva antropologica, cioè la datità antropologica dell'essere umano, il suo essere fallibile, il suo essere appunto la cui dignità è sempre da migliorare, la cui dignità è sempre da vivere in modo più adeguato. Le norme ai tempi della natura, la stessa etica, la stessa etica della crescita che impone di tenere conto del legame di prossimità e che avvolge i popoli e i territori seppur lontani sulla carta geografica. Tale abuso viene identificato dal Magistero di Papa Francesco con l'espressione appunto paradigma tecnocratico, i paragrafi 106 e seguenti, conciò riassumendo però un fascio di proposizioni, di visioni e di azioni riduzioniste e di tipo relativiste. Qui mi riferisco al paragrafo 122. In che senso riduzioniste e relativiste? Nel senso che legittimano la realtà e una resa al reale sulla base di meri rapporti di forza e quindi di prevaricazione, di un'ideologia omogenizzante sul naturale pluralismo dell'elite, delle direttive dell'elite sul senso comune del popolo, di popoli privilegiati su altri popoli che non lo sono fino appunto ad escluderli. Quindi per paradigma tecnocratico non intendiamo una, diciamo, la critica, non è una critica alla tecnologia ma a coloro che usano la tecnologia per far valere le proprie posizioni di potere. Come la globalizzazione che si presta a diverse interpretazioni così appunto anche il paradigma tecnocratico. La tecnocrazia rischia di essere un concetto molto vischioso e suscettibile di diverse interpretazioni. Tuttavia lo si può agevolmente inquadrare in quella critica sistematica alla corruzione degli individui e delle istituzioni che sta al centro della predicazione non solo di Papa Francesco ma già di Bergoglio. La corruzione allora ha un doppio volto per Papa Francesco. In primo luogo porta a perseguire il proprio interesse e profitto a scapito di altri o semplicemente a prescindere dai desideri altrui. Quella globalizzazione dell'indifferenza di cui ci parla spesso Papa Francesco che io la preferisco al relativismo come parola eh? Devo essere sincero. Dall'altro in secondo luogo il secondo effetto della corruzione essa conduce a sostituirsi e credo che questo sia l'aspetto istituzionale più problematico del paradigma tecnocratico. Conduce a sostituirsi agli altri nelle scelte fondamentali della vita con la pretesa di conoscere bene o meglio gli altrui interessi. Cioè con la convinzione di essere in possesso di una conoscenza superiore, di una razionalità superiore, di una competenza superiore, di essere a conoscenza della verità. In quanto elite conosciamo il vero, conosciamo il bello, il buono e abbiamo il diritto di imporlo agli altri. Ora nel passato lo era e loro erano i filosofi. Platone alla domanda chi deve governare risponde ai filosofi. In altri momenti della storia ci sono stati la plutocrazia, chi ha più soldi. In altri momenti chi deve governare? Beh, governa chi è più forte, chi ha le armate più importanti, più forti. Oggi ci fa presente Papa Francesco il rischio e alla domanda chi deve governare, domanda che non andrebbe mai posta, eh? Chi deve governare oggi si risponderebbe beh chi ha le maggiori conoscenze. Ecco che il paradigma tecnocratico rinvia esattamente a questo, ovvero a quella che un autore a me molto caro, che è un economista che non c'ha niente a che fare con Papa Francesco, Fredrik Agus von Hayek, chiamerebbe la presunzione fatale. La presunzione fatale che sfocia nel costruttivismo sociale, che sfocia poi nell'assistenzialismo. Tutte cose che in altri modi e con altre parole il Magistero Sociale della Chiesa, anche di Papa Francesco, condanna, quantomeno critica fortemente, si pensi alla Vergeli Gadium 202-204 e il suo duro attacco accusa all'assistenzialismo, appunto rivolge strali, potremmo dire, senza appelli. Ora, sulla scorta di ciò, il referente ideologico di questa tecnocrazia, e vado alle conclusioni, risulta molto chiaro, o è piuttosto chiaro al sottoscritto, che è un certo progressismo di marca interventista, cioè di quell'idea di storia in forza della quale il fine ultimo sarebbe già conosciuto da chi lo interpreta nel modo più adeguato, che poi sono l'elite, che ha plasmato le grandi scelte della politica mondiale già a partire dalla grande crisi del 1929. È un po' quello che ci portiamo dietro, che poi si è risolto nella seconda guerra mondiale, si è risolto nelle varie ricostruzioni, nelle varie politiche monetarie e via dicendo, fino alle crisi economiche degli ultimi anni. Ciò che viene sovente bollato, ad esempio, come neoliberismo, perché qui tocchiamo ancora qualche nervo scoperto, la lettura di questa incilica ha portato anche a dibattiti in ordine alla critica del Papa nei confronti del neoliberismo. Espressione abbastanza equivoca, che per quanto mi riguarda non ha cittadinanza, ma visto che la si usa, che cosa significa? Se dal mio punto di vista il neoliberismo così condannato da Papa Francesco non ha nulla a che fare con la cosiddetta economia libera, che invece viene scelta in modo netto da Giovanni Paolo II nel paragrafo 42 della centesimus annus. Una cosa è appunto l'economia libera, altro è l'economia appunto, quella che alcuni chiamano anche appunto il cronic capitalism, cioè quel capitalismo clientelare corrotto che riconosce e garantisce rendite di posizione piuttosto che basarsi sulla libera concorrenza e dunque far emergere sempre soluzioni migliori. Allo stesso modo il Papa rivolge ripetutamente agli operatori economici l'invito di rallentare, con questo concludo, perché questo è l'altro punto cruciale che metteva in evidenza Marcus, rallentare la marcia di un sistema economicista ovvero turbo capitalista, questa è l'espressione che viene utilizzato, incentrato cioè su una inesausta volontà estrattiva delle risorse naturali e più propriamente umani. Dunque su questo urge fare una certa chiarezza, poi perché c'è tutto il filone della decrescita felice che in qualche modo si innesca in questo dibattito e se non stiamo attenti la lettura di una certa lettura delle encicliche potrebbe in effetti portare ad una deriva di questa natura, di questo tipo. Io per un verso uso un antico adagio, chi non avanza anche in termini spirituali normalmente regredisce, quindi non è anche spiritualmente, dobbiamo crescere se non vogliamo regredire, ecco la stessa logica io l'adotterei anche in ambito economico. E con una piccola aggiunta, per una piccola aggiunta, ora la dottrina sociale della chiesa ci offre una lettura della società a partire da alcuni pilastri che sono il bene comune, la dignità umana, la solidarietà e la sussidiarietà. Sono poi i pilastri, i principi fondamentali della dottrina, da manuale ve lo sto dicendo, è proprio una cosa da manuale. Ecco io credo che più la decrescita o meglio il rallentamento della crescita così come è esposto dalla laudato così ci inviti, poi ci obbliga chi vuole sentirsi obbligato, ma comunque ci inviti a rimodulare queste quattro gambe. Sono quattro gambe che hanno ciascuno un peso. Ecco io credo che alla luce degli avvenimenti, alla luce del nostro presente sia il caso di rivedere, rimodulare. Ecco i quattro principi non sono fissi, i quattro principi, il modo in cui si rilongono, il modo in cui vengono affrontati, ci invitano ad una continua loro ridefinizione. In altre parole occorre sostituire, possiamo dire, ad una logica del consumo con un atteggiamento di crescita responsabile, consapevole, solidare e sussidiare, individuando probabilmente più che nel consumo to cure, ma nel risparmio il motore dell'economia e eventualmente nel consumo qualificato la direzione che l'economia sta prendendo, che tipo di direzione sta prendendo.